La selezione secondo me è decisamente adeguata, la bellezza è importante sicuramente, ma tante altre cose hanno un peso e qui questo peso cede. Dottore Stelli, innanzitutto complimenti per questa nuova sede nel cuore di City Life, che quest'anno siamo venuti a sottoporre la squadra nuova per avere insomma il suo nulla osta alla partenza. Partiamo da Alessandra. Forse l'unico problemino che potrei incontrare è un po' di mal di mare, quindi non so se può darmi qualche consiglio. Generalmente i problemi si hanno soprattutto nella prima giornata o seconda giornata, poi c'è un adattamento e si passa da uno stato di terra a uno stato di mare. È stata scelta poi Stefanie, di 27 anni, ha una pelle particolare con qualche neo e soprattutto le lentigini al volto, per cui per lei un'attenzione maggiore all'esposizione al sole. Anche Gloria è tra le più giovani del gruppo, a 24 anni, passa dal praticare yoga alla boxe. Diciamo che la boxe mi fa sfogare e lo yoga invece mi rilassa. Dobbiamo magari contenere un'esposizione solare. Adesso facciamo l'ecografia della tiroide. Può partire tranquilla per il suo viaggio. Grazie mille. Com'è la squadra di quest'anno? Come le sembra? Mi sembra proprio una squadra abbastanza compatta, omogenea e penso che andranno d'accordo. Auguri e buon viaggio a tutti. Spero di non sentirvi mai. Oggi vorrei dire che state bene. Ola, 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 ola. Ola, 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 ola.